buongiorno popolo di youtube questo è appena il secondo giorno del nostro nuovo format il format for fun e siamo qui per ricordarvi nuovamente che c'è la for fun da ieri è iniziato il format for fan non dimenticate di iscrivervi al nostro canale tutto nuovo e oggi ci sarà il primo scherzo ad uno dei for fan chi sarà mai ci sono esattamente 11 gradi 15 gradi dopo che ieri sera ce n'erano 0 a luna anche meno uno e in effetti c'era la neve ma la neve adesso si sta sciogliendo si scioglie sembra che piova in realtà è la neve che si scioglie siete pronti per il nuovo scherzo che faremo questo pomeriggio vicky jb buonasera tutto bene state comprando ma la for io non presento la for sto effettivamente pensando a quale scherzo fare e a chi se azov vicky o jb perché ora sono da sola a chi lo farò mai tiro una bella palla di neve a qualcuno in faccia o mi metto d'accordo con qualcuno di loro per farlo ad uno solo uno scherzo ci sto pensando ho deciso lo faremo a bici lo faremo proprio alla bella e cara vicky la biondina del gruppo quella un po estroversa timidina e che ha dei momenti in cui non vuole parlare e essere diciamo disturbata non vuole che qualcuno le parli e allora oggi gli scherzi inizieranno proprio corretti credo sia la candidata più adeguata per il primo scherzo della forno ok 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 abbiamo deciso che scherzo fare abbiamo deciso che scherzo fare a bici a bici però no no Ora saliamo sul letto Tutti insieme Questa è lo scherzo, è che scherzo? Aspettate, tu guardi la mente Stia bene, stia bene Stia bene Stia bene Stia bene Stia bene Lui rimaserà, non stia sfida E lui mi riconerà una chiamata inaspettata è una chiamata che chissà se farà un piacere vedere una chiamata gelosa una chiamata di gelosia la chiamata la chiamata come? go my god non bello abbiamo fatto impostare no i i ah spirito di cosa state facciole bello mi il The 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 oul Allora praticamente ho cambiato il mio giusto per prendere una federica per poter fare uno scherzo alla mia ragazza che è stracenosa adesso ho dimostrazione di essere un'altra Questa è Federica, ok? Tento a posto Federica Ah, meno Maria, si lavora L'importante è che Ecco, più alla cosa la camera ci sta lavorando, tutto a posto Ancora no Eh, Federica, ma tu hai risolto questa situazione Tu questa situazione la devi risolvere con questo Che sennò comunque se vuoi io ci sono per uno spogo Tu quando vuoi chiamami Quando ti pare a te, tranquilla, pure se sto lavorando, pure se sto lavorando, mi prendi, mi chiami, io ci sono sempre Non ti preoccupare Tranquillo Che è Vici? Chi è? Nessuno Dai, dai Non è nessuno, no Aspetta un attimo, aspetta, vedete Gira un attimo No, non gira un attimo Pronto Vici, com'è il biglietto? Chi è il telefono? Non è Staccata la chiamata, sta chiamata la cosa, hai visto? Dai Non è Non è Pronto Vici, sta staccando sempre, sta vedendo Perché sta staccando? Eh? Ma ci vuoi raccomandare la mia vecchia? Mamma mia, ne ha nessuno Non è nessuno, Gigi Gigi, venga la pasta E fa vedere No 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 Ti sto dicendo di no, Gigi No Fammi vedere Vici, eccola Mettila Eccola 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 Com'è il mio napolo Ma quando mai? Sì, il mio napolo, Vici Tu sai che non sta la vitello, che non sta la peruca, ma questa è la com'è il mio napolo E perché è staccata? Ah? Ha staccato adesso, Vici E' il mio napolo E metti pipa-voce No, pipa-voce no Scusate Sotto a mano No, pipa-voce no Mettila pipa-voce no Ha staccato Ma perché non metti pipa-voce? Ha staccato Ha staccato Ha staccato, eh qua Ma non mi rispondi più, Vici, sicuro Vai, pipa-voce Vici, ma perché? Tranquilla E' un'amica mia Eh già, Vici, non fa così Non fa così numero Eh? Dammi il numero No, non ti ti ho nessun numero, Vici Guardatevi, Vici Vici, ma come te li c'ha mai appiccicata? Tu rivela camminare geloso, non fai cibo, tu Dai Eh? Dammi il numero Eh? Dammi il numero Agito no Stop Basta Agito no Sta Federica, è un'amica, Vici Federica Guadagno Ma come ti inquadri un'amica? Oh, Federica Guadagno si chiama Ora cerco Ma non riesce, perché da un nome strano non mi ricordo come si chiama su Instagram Ma non ti dici, cerca Mi interessa a me Ti sto dicendo che si chiama in un altro modo, Vici, non mi arrivo che ci provo e basta, eh Ma che si chiama più? Sicuramente se è cagata sotto Perché la seconda voce è femmina e... Si sto... Questa volta mi stai chiamando No No Dai, Luigi No, Luigi, no Federica Oh, sta accadendo una volta Allora è scema, fammi... No, non è scema, Luigi Ah, non prende Ah? Non prende No, piglia, ci sta la Wifi Dai, Luigi Dai, Luigi, eh Che hai già fatto? Adesso chiamiamo? Devo chiamare, voglio che parli davanti a me Chiamiamo tu, ti chiamiamo, vici Il chat non li legge Non devi leggere, le chat Che chat hai, lui? Chat così Adesso non mi rispondi, sicuro Mi ha chiamato perché c'era un problema col fidanzato E quindi voleva un supporto Ma chi è che vuole il supporto? Mi dice ma scusami, sai che ti chiama una persona? Un amico tuo Tu sai chi è Io, io lo so chi è se mi chiamo qualcuno tu sicuramente lo conosci no non è vero a te non ti prendi qua proprio niente? è impossibile che non prendi perchè c'è internet di casa è arrivata ieri la wi-fi perchè non ci hanno fatto il park? il park dentro il park non lo sai scusa non puoi essere pure amica mia non puoi essere amica mia no non lo sai le cavoli stanno tremando le mani quindi se sei con lei io dove sei no non ci credo ma dici si vede la... chiamala chiamala tu dici non c'è dici non c'è ma mai vista sta Federico? ma che cazzo stai dicendo lui? ma sei scemo solo uno mi ricordo Federico era uno di tante eh amici sono anche amiche non c'è questa però ah? non è questa qua sì di gira è lei cioè non lei ne ho tante ne ho tante ne ho tante Luigi mi stanno tremando le mani eh amici ma che... dai vedi chi è dai vedi chi è vedi chi è fammi vedere chi il numero selezionato? sto chiamando vici puoi come si risponde? non è la prima volta eh pronto? ma sta calma vici basta ma ci fai striato ma la contatta che stai dicendo stop c'è nel senso no non mi chiama più non mi contattare più qualcosa così non lo so guardami negli occhi ti sto guardando video è solo una amica tu questa amica non l'hai mai avuta lui? vici è una amica che si chiama Federica e non l'hai mai avuta dopo due anni le persone ti chiamano scusa mi posso convidarti ma chi ti ha detto a te due anni e io la ci sono io e tu siamo due anni che siamo insieme questa non siamo mai vici non ti ho detto la verità non ti ho detto l'hai da volta mi ha contattato mi ha contattato non te l'ho detto perché pensavo che tu facessi quello che stai facendo ti ha già nascosto non è vero perché io non so così che cosa? se tu mi dici che ti contatti io non dirgo niente no invece si non essere bruciato farmi vedere non essere bruciato scusa vici se non c'è dici se non c'è niente di male chiamami no vici no vici vici mi devi credere siamo da due anni insieme e penso che la fiducia hai il profilo instagram di questa no? io mi ricordo l'efa si chiama Federica Guadagno ma non mi ricordo tu sai tu sai pure io mi chiammi la dame la dame e non mi chiammi 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 no? c'è boh e vieni vieni le dole ti chiammi ti chiammi chi buh? io non lo so che devo fare allora? si chiama sei vuoi mandare un messaggio? vuoi mandare una passata l'epoca ti faccio mandare un messaggio stai a mangi no vedete mi ha scusato faccio amore che non è certo però non vedete non vedete non vedete non vedete non vedete non vedete non riesco a fare non mi metti il telefono in mano, non vedo le sciazze, no! che cosa vinci? che cosa non parli? ci pare solo che non mi chiamiamo più, così se no mangia solo la cucina con te ma stai scherzando? stai scherzando? guardami stai scherzando? su cosa Virgiria? spero! ho detto spero solo e non mi chiami più non esiste lui, che cosa non esiste? non può esiste questa Federica perché io non la conosco scusami un numero su un member, tu si fichi un numero che vuoi fare un numero a cazzo trasfermi non lo so che gestore abbia, però pensi che il numero c'è, quindi vado a fare dove sto telefono? che c'è? che transi? dammi il suo telefono, allora! dai! Federico chiamami più tardi ah, guarda! dai, li stai a cazzo sai, per esempio quando guardo il culo alle altre persone la rio in pace sai quando non lo vedi? sai quando la rio in pace e pensi guarda ti culo a quella hai rio in pace, tu capisci che? che? lo faccio vabbè vabbè vici vabbè vici no dammi il telefono voglio solo vedere io non faccio niente aspetta mi hanno mandato un messaggio e che problemi c'ha sta ragazza che ti chiama ma che personese mi sta affatto non mi aspettavo questo da te ma questo da te no dammi dai vici dammi il telefono voglio solo il telefono no ho detto no per favore si può girare la lega dai scu 6 e zwarpro dettaicolo ma è vero o no sei giusto non esiste lui esiste non puoi esiste vici quando siamo a Napoli te faccio conoscere che faccio ti fico innamoratateovici che diciamo a dire ma mi interessa di lancio credited tuck PLAV vabbè non c'era più va dove vai Vigi non te lo do tre, non te lo do Stai scherzando L'unica cosa Ma che cosa stai dicendo? Non è L'unica cosa per cui ti posso dare E caso me lo devo dare e lo metto sotto qua E lo vedi giù Stop, che stai? Basta Ci devi evitare qua Fatti, Vicky Vabbè, voglio aspettare perché c'è questa Che c'è? Ma che ha fatto? Fammi vedere Oh, Vicky Dai Me l'ho scelta con te Mamma mia Ha 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 Ma che vedi di